Ciao a tutti, domenica 20 dicembre alle ore 10 saremo insieme collegati per gli stati generali dell'ambiente del Movimento 5 Stelle. Sarà il momento per confrontarci, per ascoltare le idee reciproche insieme ai portavoce nazionali, regionali e territoriali. È un momento importante, siamo a metà della legislatura e quindi è il momento di fare il punto della situazione di ciò che si è fatto, ma anche di ciò che si sta facendo e si vuole definire entro la fine della legislatura. Quindi è il momento in cui possiamo arricchire questo percorso con nuove idee, nuove proposizioni ed entusiasmo sempre rinnovato. Ci vediamo domenica, ciao a tutti. Grazie.